Cristina Aguilera, tre scatti bollenti su Instagram. La star ha lasciato tutti a bocca aperta pubblicando degli scatti in cui si è mostrata senza veli. Cristina Aguilera si è mostrata senza veli sui social scatenando l'immediata reazione dei tanti fan, che hanno condiviso e commentato entusiasti il post dell'artista americana. Gli scatti in bianco e nero e privi di testo descrittivo lasciano davvero ben poco all'immaginazione. Cristina Aguilera come mamma l'ha fatta. La star americana ha messo online degli scatti bollenti che hanno infiammato gli utenti dei social accorsi in migliaia per condividere, commentare e mettere le ghe. Non si tratta di chissà quale elaborato servizio fotografico, ma semplicemente di tre foto pubblicate su Instagram, diventate popolarissime in poche ore. Tutte e tre sono in bianco e nero e ritraggono la bella Aguilera in pose sensuali. In una la cantante è ripresa, mentre stesa nella vasca da bagno si solleva inarcando la testa all'indietro mostrando il sinuoso profilo del mento e le forme del suo corpo, coperte in parte dal bagno schiuma, che dona il classico effetto vedo non vedo. In un altro scatto Cristina si mostra in posa a testa in giù sul bordo vasca mostrando il decollete sbalorditivo, che copre con le mani. Nell'ultima, la Aguilera, immersa tra l'acqua e il bagno schiuma, è ritratta di spalle mentre si gira verso la camera a simulare un po' un effetto sorpresa. Tutti e tre gli scatti non sono accompagnati da alcun tipo di didascalia o spiegazione per contestualizzarli, fatta eccezione per l'emoticon di una goccia. Cristina, che attualmente è 37enne, con questi scatti ha dimostrato ai suoi fan di essere decisamente in ottima forma. Una carriera da urlo La cantante statunitense, nata a New York nel 1980, è stata giudicata una delle 100 migliori artiste in circolazione secondo la celebre rivista Rolling Stone. Cristina Aguilera realizzò il primo album nel 1999 a soli 19 anni riscuotendo un successo strepitoso con oltre 200.000 copie vendute solo durante la prima settimana. La giovane cantante continuò la sua carriera stellare arrivando ad aggiudicarsi premi prestigiosi, come 6 Grammy Award e il certificato da parte della Hollywood o Alcofame per il suo significativo contributo all'industria musicale. Da un po' di tempo la cantante sembra un po' fuori dalla scena musicale attuale. Lo scorso gennaio aveva annunciato con Instagram Stories la conferma di un nuovo disco. Il post, fatto con la sua classica ironia, potete vederlo qui sotto immortalato dalla pagina Pop Crave. Grazie a tutti. Grazie per la visione!